Ciao, sono Andrea Bottinelli, ho 20 anni, ho scelto questo corso l'ITS delle biotecnologie di Bergamo perché mi interessava lo sbocco che dava, ovvero dava uno stage di 5 mesi e in questi 5 mesi imparavo appunto l'esperienza, avevo un'esperienza lavorativa. Poi questa scuola mi ha insegnato molte cose, come ad esempio abbiamo fatto project management oppure l'inserimento dei prodotti farmaceutici, mi ha interessato molto come corso anche perché dava più specializzazioni e quindi sono molto contento, mi piacerebbe andare avanti e avere un lavoro che mi soddisfi sia a livello umano che anche dal punto di vista lavorativo.